eccomi ciao a tutti allora ho appena pubblicato delizia e spero che vi sia piaciuto e che molte di voi molti di voi siano lì ad uncinettarlo lo spero con tutto il cuore allora che cos'è è sempre delizia però dovrebbe essere tra l'altro apro una parentesi un video breve vedremo perché io poi quando inizio a parlare non non la smetto più quindi dovrebbe essere una chiacchierata barra non recensione ma vi voglio far vedere alcuni filati che ho preso pochi che ho preso ma che vale la pena mostrarveli e per realizzare appunto delizia ma non solo delizia anche tante altre creazioni allora partiamo da questo che sto portando avanti e lo voglio finire qui è la cake angora bene avevo già parlato però non vi avevo mai fatto vedere un tipo di progetto così con la cake angora e quindi ho preferito adesso aprire un video per mostrarvi la delicatezza di questo filato che va a sfumare quindi in un lotto voi avrete due di queste cake quindi una per parte quindi una per la parte sinistra una per la parte destra e poi il resto cioè quello che vi avanzerà vi servirà per allargare ed allungare il cardigan ovviamente voi dite marina ma di che cosa stai parlando sto parlando del cardigan delizia come detto all'inizio quindi se chi lo sta iniziando chi lo sta realizzando sicuramente sa di che cosa sto parlando no quindi utilizzando una cake come questa che è sfumata guardate che sfumature che ha adesso non so neanche se c'è questo colore ma comunque qualche colore disponibile c'è di sicuro utilizzando quindi una cake come questa bisogna bilanciare i colori in modo tale da avere le due parti del cardigan uguali poi qui ho utilizzato l'uncinetto tre e mezzo per questo ecco quindi volevo anche mostrarvi con un uncinetto tre e mezzo perché io sto realizzando dei capi sempre sempre di delizia e dei capi con uncinetto due e mezzo e ho utilizzato l'uncinetto tre nel tutorial e questo è l'uncinetto tre e mezzo così vedete proprio anche la differenza anzi così la vedete ancora meglio la differenza allora questo è il filato sottile che tra l'altro ho preso altri due filati per potervi e vi ho messo anche il link tra l'altro sotto il tutorial vi ho messo forse una foto l'avete vista passare durante il tutorial però non vi ho mai fatto recensione perché sono nuovi quei due filati e quindi li ho presi proprio per poter realizzare un altro delizia con un filato abbastanza sottile ma di qualità e poi ve lo faccio vedere quindi per chi volesse un filato sottile come questo che ho utilizzato io e che non c'è più dopo vi mostro dei filati che ho preso vedete ecco la differenza guardate anche solo ecco la vedete ok quindi questa vi lascio il link qui sotto il primo filato che vi mostro quindi andrà in ordine ok vi lascio il link di questo e qui parliamo di aspettatemi è 20 per cento angora 20 per cento lana e 60 per cento acrilico in un in una cake e in un lotto quindi se lasciate uno ne riceverete due di queste cake e quindi in una di queste cake avete 1100 metri quindi io sono al pelo perché non so se riesco a finirla con una la farò un pochino più corta e così riesco a finirla con 2200 metri perché io ho solo un lotto quindi se state nella 44 e non esagerate con la lunghezza un lotto vi basta ok per realizzare delizia se dobbiamo fare non so un altro cardigan dipende da quanto mangia la lavorazione delizia ne lo divora il filato proprio lo divora poi dipende anche dal dalla dalla bordura che andiamo a fare perché la bordura che troverete nella seconda parte di delizia anche quella è una mangiona incredibile è golosissima quindi si porta via il filato in questa bordura semplice semplice che magari dopo vi faccio anche vedere anche se quella è la bordura incanto d'onda quindi eventualmente la trovate anche nel cardiga incanto d'onda ma in molte creature perché mi piace molto questa bordura semplice semplice e questa ovviamente impegnerà meno filato quindi se avete una 44 la volete fare il giusto lunga il giusto ecco io farò magari questa bordura perché ho solo un lotto quindi non posso utilizzare troppo filato e di conseguenza marina userà una bordura più sottile cioè quella che impegnerà meno filato possibile ora però vi mostrerò due i due filati che io ho preso appena nati si può dire che sono molto molto belli e come filati molto belli ve li faccio vedere secondo filato allora parliamo del perù alpaca fine fine quello più sottile il perù alpaca fine allora consigliano il 3 come uncinetto effettivamente io l'ho lavorato con il 3 ci sono in un lotto 2 4 6 8 gomitoli da 50 grammi il totale fa 400 grammi il metraggio vi dico il totale il metraggio totale sono 2800 metri totale di uno singolo abbiamo 350 metri di uno quindi noi avremo lasciando uno nel sito dell'islam che non è il mio sito ma è dove io ho fiducia dove acquisto dove mi piacciono i filati scusatemi dove mi piacciono i filati e dove acquisto allora se lasciate uno voi acquisterete 400 grammi di filato totale 2800 metri quindi io qui riesco a fare il cardigan per me e che perché utilizzato se non ricordo male 2400 metri qui sono 2800 800 metri e me ne avanza un pochino quindi anche una 46 ci sta dentro ok utili facendo il cardigan col bordo quello che mangia di più ok ok è un filato tra l'altro ve l'ho già detto che io l'ho pagato di più io l'ho pagato di più di quanto è sul sito perché sul sito oggi e non so domani io parlo di oggi 18 febbraio sul sito costa 5 euro circa ho rotondato 5 euro circa vabbè il prezzo di partenza se non ricordo male intorno ai 16 euro il prezzo di partenza oggi è circa 5 euro un lotto quindi anche se andate a prenderne due spendete 10 euro di filato e forse una decina di euro 12 euro sono sbaglio con due lotti di spedizione più o meno per riceverlo nel giro di due o tre giorni se scegliete express ok se lasciate expedite perché normalmente rimane su expedite lo riceverete in 20 25 giorni così è successo a me così è sempre stato più o meno è molto lento come spedizione ma se lasciate ex per 2 3 bar 4 al massimo giorni lo riceverete quindi facendo poi magari vi faccio qualche calcolo ma ve l'ho già fatto in una recensione i calcoli della spedizione come dovete non spaventarvi per le spese perché tutto sommato in questo caso parliamo di 62 centesimi il gomitolo anche se voi vedete che le spedizioni sono più alte di quello che state acquistando ma fate la somma facendo la somma delle spese di spedizione e dei filati il totale cioè quello che voi andate a pagare ipotesi 30 ipotesi 30 euro dividete i 30 euro per i gomitoli che avete dentro il vostro ordine e vi renderete conto di quanto è conveniente non vorrei farvi di nuovo lo schizzo perché ripeto ve l'ho già fatto quindi è palese la convenienza per quanto uno dica ma costa di più la spedizione dividete quello che voi dovete pagare per i lotti o per i gomitoli io faccio sempre così e vi renderete conto di quanto andate a pagare un gomitolo ok un euro provate provate a farlo dividete poi vedete che mi date ragione se volete io ovviamente vi mostro ciò che ho acquistato e ciò che mi piace soprattutto ciò che mi piace quindi questo ha a proposito qui stavo già iniziando ve l'ho voluto far vedere anche con un già iniziato no per farvi capire aspettiamo che io ho iniziato con quello che sono già avanti con questo questo si può lavorare tranquillamente mono filo e si lavora che cosa ve lo dico a fare si lavora benissimo e morbido proprio da lavorare non non è troppo pelosino ok quindi non anche per chi sta iniziando magari che può aver problemi no con quel pelino del dell'angora per esempio che io amo però magari c'è chi non lo ama tanto ecco questo qui è un filato lanoso nel senso che per chi non ama troppo l'acrilico questo qui è veramente particolarmente adatto ma non punge e questo proprio è assodato si lavora come vedete in scioltezza ok quindi è un filato che dà un bel risultato decisamente un bel risultato ovviamente il colore che ho preso io non c'è più non capisco perché devono sparire così subito i colori comunque questo colore non c'è più vi lascio il link proprio sotto il tutorial eh sì che tutorial sotto la recensione ho voluto provare anche questo filato guardate che colori che ho preso strano vero voi direte strano che marina prende colori così ma proprio perché non li ho a parte che sono poco adatti per fare un tutorial quindi magari voi vedete solo colori chiari io magari qualcosina me lo faccio anche un pochino più scuro non nero è non nero a me il nero piace solo sugli altri non su di me comunque qui stiamo parlando del perù alpaca super fine super fine quindi prima era perù alpaca fine qui invece parliamo del perù alpaca super fine così almeno ve dimostrano e anche voi riuscite bene a capire se fa per voi o meno allora questo filato che tra l'altro è lunghissimo come filato proprio veramente lungo a questo non problema a questa particolarità cioè neanche particolarità è semplicemente molto sottile quindi io per lavorare questo filato lo devo mettere doppio a meno che non voglia fare un cardigan di quelli sottili 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 da leccarsi le baffi i baffi perché verrebbe un qualcosa di veramente magico come raffinatezza come come tutto però bisogna vedere ecco lavorarlo così sottile se a voi piace o no io lo lavorerò invece doppio e vedete che già doppio io sto usando un uncinetto numero due già doppio è già una bella cosa adesso voglio fare solo un punto puff per vedere è già molto sottile ok mi piace ve lo dico già ma già l'avevo visto che mi piaceva però è già molto e molto sottile così farlo singolo francamente non lo so non lo so non lo so non lo so guardate che carino che viene adesso ne faccio un pezzetto ve lo faccio vedere guardate se non è magnifico il risultato che da a parte che vabbè chissà se questo colore c'è ancora adesso poi lo vado lo vado a vedere questo colore veramente bellissimo e stupendo morbidissimo leggerissimo ovviamente come filato è veramente leggero e doppio perché io lo userei doppio è veramente bello ma forse adesso non so se è per la luce ma sembra quasi melangiato non lo so comunque è stupendo in un lotto tra l'altro e questo andrebbe super benissimo è per per la mia creatura l'ultima che ho creato delizia e in un lotto avrete 10 di questi gomitolini 10 1 2 3 4 5 e 5 sono 10 allora qui abbiamo 450 metri per ogni gomitolino da 30 grammi quindi in un lotto non abbiamo 400 grammi ma ne abbiamo solo 300 ma essendo così sottile ovviamente abbiamo 450 metri quindi un totale di 4500 metri che io però devo usare doppio quindi dovendolo usare doppio si dimezza dai 4500 metri diventano soltanto 2250 bene cosa vuol dire che marina non ce la fa a finire il suo cardigan cardigan quindi perché io ne ho acquistato uno solo perché ho visto il metraggio ho detto caspita puoi capire no ne faccio quasi due di non è vero due no però ci sto e faccio anche uno shale invece non ci sto e quindi oggi devo acquistare l'altro lotto e vi dico anche vediamo se in offerta miracolo allora il colore che ho preso io che il teal c'è ancora vi lascio il link così se c'è qualcuno che piace questo colore come piace tanto me io riesco quindi ad acquistare l'altro lotto che mi manca costa da 16 euro costa 7 euro e 47 10 gomitoli 10 quindi tutto il lotto così come lo vedete e quindi è scontato anche questo quello che stavo guardando e che sono edizioni limitate ecco perché del mio del colore del mio l'altro che vi ho mostrato prima e quel colore ovviamente non torna più quindi esauriti questi non ci saranno più quindi se dovete prendere fate come meglio per esempio adesso acquisto subito questo prima che mi vada in esaurimento poi non riesco a fare il cardigan perché uno blu mi interessa moltissimo guardateci bene perché se vi piace prendete la quantità di filato che vi occorre non state giuste giuste perché poi non lo ritroviamo ecco ecco questo ci tenevo a dire vi mostro altro prima vi ho fatto vedere quanto è morbido ovviamente assolutamente non punge assolutamente quindi è una morbidezza assoluta ok bisogna di un'alternativa che ne dite di questa è una bella alternativa vero perché se cielo blu posso averlo anche un pochino rosso che ne dite e questo è il silk merino silk merino che ho già preso ho già realizzato per a chi doveva andare la la creatura e l'ho riacquistato e poi l'ho riacquistato ancora insomma non so quante volte l'ho già riacquistato quindi so già di che cosa sto parlando vi ho già fatto recensione del silk merino il risultato è agli occhi di tutti non vi sto più a raccontare della della sua morbidezza perché è seta e merino quindi tutto ciò che vi posso dire è questo tra l'altro uncinetto due e mezzo il risultato è questo con l'uncinetto due e mezzo sarà un po più lungo magari da fare però ne vale veramente la pena il silk merino aspettate adesso ovviamente magari c'è ci sono amiche che non mi hanno seguita negli altri qui abbiamo il 35 per cento di seta il 65 per cento di lana merino ok un gomitolino a 25 grammi sono 190 metri per gomitolino ok e attenzione perché in un lotto abbiamo solo sei gomitoli quindi vuol dire che abbiamo solo 150 metri e 150 grammi scusatemi non 150 metri 150 grammi per un totale di 1000 e 140 se non vado errato metri quindi io di fatto due lotti 1140 metri quindi occhio a ad acquistare la quantità giusta ok fatevi sempre i calcoli tenete conto che quando entrate nel sito io vi lascio il link ribadisco proprio sotto nel box informazioni proprio sotto questo chiacchieraggio voi cliccando sul link andate direttamente nella pagina già tradotta in italiano già con la valuta euro perché così no perché volendo si può spostare in dollari in tutte le valute in tutte le lingue io ve lo mando così in euro e con la traduzione in italiano quindi quindi quando entrate appunto nel sito e scegliete il filato a parte che io vi lascio i link quindi andate direttamente al filato che vi sto mostrando è ovvio che guardate leggete bene tutto lo vedete in italiano leggete bene tutto voi vedrete quanti gomitoli ci sono in un lotto quanto costa il lotto totale il lotto è inteso un gruppetto di filati ok in totale quanto costa il lotto in totale quanti metri ci sono in un gomitolo e quindi è palese fate un calco una sorta di calcolo e sapete quanti lotti dovete prendere io per esempio ne ho presi due come lotti comunque silk merino guardo allora il silk merino oggi costa 7 euro e 47 quindi ogni gomitolino costa un euro e 25 più le spese di spedizione perché partono dalla turchia ve l'avevo detto chi mi conosce lo sa già però chi ha già visto altre mie chiacchierate sui filati lo sa già comunque partono dalla turchia ci sono le spedizioni e però è un euro e 25 questo oggi è fatemi passare questo oggi perché poi sento dire perché costa di meno oppure perché ecco io parlo di oggi quello che vedo oggi è questo ok passiamo andiamo avanti veloci veloci e qui è il yu perché vuoi che non mi faccio qualcosa di primaverile queste è il yu velo anche questo già mostrato ma è un premium acrilico un qualcosa di bambaggioso bambaggia ecco bambaggia l'aggettivo morbidoso ecco qui lo sto realizzando con un 3 e però andrebbe bene un 3 e mezzo anche su questo e questo per la avete presente quando stiamo per passa ecco con le serate fresche d'estate o la via di mezzo questo è perfetto e quindi il yu contiene 400 metri di filato tra l'altro ci sono dei colori dei colori bellissimi 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 da andare a vedere e costa una sciocchezza 4 euro e 15 4 di questi gomitoli 4 400 grammi 4 euro e 15 ma mamma mamma qui non è molto lungo beh insomma sono c'è 100 grammi per gomitolo 350 metri per gomitolo cioè in 100 grammi abbiamo 350 metri totale 1400 metri arrivo proprio giusta 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 a farmi il mio cardiga proprio giusta 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 con un lotto andate a vedere i colori vi innamorerete e se vi fidate di me se vi fidate di me prendetelo mettetelo nel carrello perché ne vale veramente la pena veramente veramente la pena è proprio veramente bello e poi lo vedete qua qui avevo fatto guardate avevo fatto le prove per il bordo visto il bordo che poi vi insegno nella seconda parte del tutorial è bello vero ragazze è bellissimo ragazzi non c'entra più niente delizia perché qui sto iniziando la maglia la maglia orizzonte quindi delizia non c'entra proprio niente ma volevo farvi vedere come sfuma questo filato e l'angola colors questo l'angola colors guardate che bello che allora l'angola colors e vedete che un pochino più peloso vedete ma ma quanto più peloso cioè quanto più peloso l'angola colors a 18 per cento di 32 per cento di lana 50 per cento acrilico in un gomitolone che questo avete 100 grammi e di gomitoli in un lotto ce ne 4 100 grammi con 575 metri a gomitolone vuol dire che in un lotto abbiamo 2300 metri di filato 2300 metri quindi tanta tanta roba allora attenzione io l'ho lavorato con l'uncinetto numero tre e mezzo poi come io vi ho detto anche gli uncinetti degli altri filati che ho utilizzato dipende poi sempre dalla vostra mano ok io avevo dimenticato questo particolare ricordate che quando io vi do l'indicazione sull'uncinetto l'indicazione sulla mia mano e poi dovete voi provare il filato e in base a come a come uncinettate se tirate un po di più un po di meno vi regolate con l'uncinetto visto che belle sfumature che ha e ne ho presi in due colori sto guardando questo allora tenete conto di una cosa oggi è sempre oggi 400 grammi di questo filato meraviglioso dopo vi faccio vedere questo colore 4 e c'è ci sono tutti i due colori ma non moltissimi attenzione non moltissimi costano 3 ore 32 quindi ogni gomitolone ogni gomitolo da 575 metri quindi ogni 100 grammi e voi in un pacco in un lotto quindi diciamo pacco ne avete 4 non 8 4 vi costano 3 ore 32 oggi domani non ve lo so dire ci sono ancora attualmente al momento in cui registro sei colori vediamo non è vero ce ne sono sette ce ne sono sette vi faccio vedere anche questo colore qui cosa stavo combinando niente semplicemente una prova solo per farvi vedere le colorazioni qui manca però lilla vedete deve poi sfumare lilla guardate che delicatezza una dolcezza infinita quindi vi ho mostrato quello che 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 potevo controllo se ho dimenticato qualcosa mi pare di no anche perché voglio mandarvelo subito per non farvi perdere queste questi filati che sono veramente veramente speciali veramente una coccola poi costano nulla non vi spaventate per le spese di spedizione credetemi fate i vostri calcoli fate il totale di quello che dovete ve lo ribadisco un'altra volta perché vi leggo sempre vi leggo è però è però è però però facciamo i totali e dividiamoli per i gomitoli che abbiamo nell'otta vedrete che direte marina cavolo c'hai anche ragione c'hai anche ragione quindi ok io vi do un abbraccio adesso devo veramente scappare doveva essere dieci minuti di di chiacchierata invece sono stata non so quanto ma sicuramente non dieci minuti vero me lo confermate vorrei abbracciarvi tutte lo faccio con con un bacio vi abbraccio e al prossimo tutorial rimanete con me mi raccomando ciao